Nessuna sorpresa in Basilicata arriva alla riconferma del presidente uscente Bardi alla guida di un'ampia coalizione che va dal centro-destra al terzo polo, questa volta unito nel sostenere l'ex generale. Una vittoria netta di Bardi sul candidato del centro-sinistra marrese, sostenuto da PD e 5 Stelle. Fratelli d'Italia, il primo partito della regione a seguire il PD, espluati di Forza Italia e di azione di calenda, male da una parte e la lega dall'altra i 5 Stelle. Voto regionale che tuttavia apre la corsa a quello europeo di giugno, restano ancora le polemiche nel PD, dopo il dietrofront della segretaria costretta a rinunciare al suo nome sul simbolo, scelta troppo divisiva, spiega Schlein. Domenica a Pescara invece si attende la discesa in campo della Premier Meloni, impegnata nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri, sul tavolo di Palazzo Chigi la revisione di IRPEF e IRES. Nella bozza del decreto previsto un incremento fino a 100%.